Mister, era un approvasto che ha messo in difficoltà più volte durante la gara il Giulianova, benissimo il primo tempo. Non posso dire niente a questi ragazzi, sono stati eccezionali, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, non hanno permesso niente, se non qualche azione sporadica per qualche errore magari nostro di copertura, ma devo fare complimenti alla mia squadra perché sono stati veramente dei ragazzi eccezionali. Migliore in campo il portiere Giulianova? Sicuramente, per le azioni e per la partita vista penso che il nostro avrà fatto due parate, ma niente di che, mentre quello di Giulianova ha fatto specialmente nel primo tempo delle parate importanti che ha permesso Giulianova di finire sulla 0-0. Mister, è chiaro che questo è il calcio d'agosto, serve per ruotare i meccanismi in vista del campionato, però tornando su questa partita ci sono due episodi dubbi, uno nel primo tempo e poi nel finale di gara, come ha visto dalla panchina, gli episodi che potevano essere dei rigori? Non è che potevano essere dei rigori, penso che sono dei rigori abbastanza netti, ho chiesto delucidazione all'arbitro e mi ha detto che l'ultimo non l'ha visto proprio, che non ha visto Colsole, che non l'ha visto e questo mi dispiace molto perché comunque i ragazzi meritavano una gioia più grande di quello che è comunque un pareggio che secondo me per quello visto in campo ci sta un po' stretto. È una squadra da completare? Assolutamente, ma io oggi non voglio parlare di mercato, non voglio parlare di acquisti, ringrazio il direttore Palermo, ringrazio il presidente che comunque mi hanno dato la possibilità innanzitutto di allenare in una piazza importante e soprattutto dei ragazzi eccezionali come la mia squadra, quindi sicuramente ci sarà da pedalare, da soffrire, ma saremo pronti a battagliare campo su campo. Mister 0-0 qui all'Aragona di Vasto, un Giulianova che ha sofferto nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa, però è chiaro che questo è il calcio d'agosto e il Giulianova è stato costruito appena una settimana fa. Sì, è il calcio d'agosto, i ragazzi devono capire che nel primo tempo, che in 30 minuti si fa fatica, perché qualsiasi squadra è fresca fisicamente, sono organizzate, noi magari regoliamo tutto subito, ma c'è un attimino più di pazienza a far girare la palla, però va bene, sappiamo che dobbiamo crescere, lavorare, i ragazzi dobbiamo crescere in autostima, che è fondamentale, poi dobbiamo essere più battaglieri in mezzo al campo. Dove può migliorare il Giulianova? Deve migliorare in questo, dobbiamo fare i gol, abbiamo avuto tra virgolette pure parecchie occasioni, poi se il portiere loro non ha parato, però c'è un po' parecchie occasioni, se rifinivamo bene gli facevamo gol, però va bene, mi serve anche a me per capire tante cose sui ragazzi. Poi tra una settimana si replica al castrum? Tutto aperto, tutto aperto, vediamo quello che ci meritiamo.